Oggi facendo un punto alla situazione verifichiamo che nella sua inderezza il protocollo non sta andando avanti. Ecco, in percentuale, proprio rispetto all'accordo del 6 novembre del 2014, a Gela quanti cantieri sono partiti? Io non interverrei sui cantieri, ma farei una disamina nel protocollo perché noi abbiamo l'aspetto green, abbiamo l'aspetto up stream e l'aspetto delle bonifiche. Quindi se entro nei cantieri è come se fosse una parvenza che c'è un'attività. Io vorrei entrare invece sui tempi di realizzazione del protocollo stesso. Per quanto riguarda la green è passato un messaggio mediatico dove si dice che entro il 2018 ci sarà la green, ma non è così rispetto al protocollo perché nel protocollo c'era scritto che entro il 2017 dobbiamo avere la green. Aspettiamo un incontro, a breve scadenza con l'azienda, un incontro tecnico per fare una verifica sulla green stesso. Per quanto riguarda il settore up stream ci sono le dolenti note. Le dolenti note dovute al fatto che da un lato ci hanno proposto una rimodulazione del progetto. Per quanto riguarda la gucassiopea nella rimodulazione portano un slittamento dei tempi perché doveva partire entro il 2019 la gucassiopea e invece sarà entro il 2020. Quindi c'è un anno di slittamento, anche se loro dicono che anticipano, ma non capisco che significa anticipare. Però c'è un dato negativo che emerge sull'up stream, che è la produzione di petrolio rispetto a mesi addietro e si è ridotta di circa 6.000 barrile al giorno. Quindi siamo a 14.000 barrile al giorno rispetto ai 20.000. Questo ci fa preoccupare, significa che non sono stati fatti quegli investimenti che hanno permesso di aumentare la produzione di greggio e quindi anche di gas. E quindi sulla base di questo c'è un altro problema che emerge perché nell'up stream, in Enimed, hanno confluito altri 120 unità. Quindi significa che ci potremo trovare nei prossimi mesi con un problema di un costo del lavoro notevole e quindi sui bilanci antebrai incidere con problemi anche occupazionali nel proseguo. Questo per quanto riguarda l'up stream, in ultima analisi per quanto riguarda le bonifiche, dicono che è partita la bonifica dell'ISAF, ma dobbiamo fare un incontro specifico per capire a che punto siamo e dove possiamo arrivare. Parlano tutti di green, ma di un verde che ancora è una speranza per il prossimo futuro. Infreddolite, ma coriace a tutto, sono le mogli degli ex operai dell'indotto dallo stabilimento Eni di Gela, stanche e deluse di ascoltare solo promesse. Allo stato attuale mancano i fatti e ieri sera in piazza Umberto I hanno promosso una fiaccolata simbolica sotto l'albero di Natale. Non siamo invisibili e non perdiamo la speranza, hanno detto. Gli ammortizzatori sociali sono oramai scaduti da mesi e aumentano i padri di famiglia che sono in difficoltà. Il lavoro è dignità, vogliamo che i nostri mariti tornino a lavorare. Questa fiaccolata è la fiaccolata del silenzio contro il silenzio, perché noi vogliamo lavoro, non ce la facciamo più, vogliamo risposta. Ci sono operai, persone che hanno disagi, una Gela in cinocchio, una Gela disperata, vogliamo risposte, solo risposte da parte delle istituzioni, dei politici locali, regionali, da parte della Chiesa, da parte di tutti. Basta più, non ce la facciamo più. Vogliamo soltanto lavoro per tutti, non solo per l'indotto. Abbiamo finito pure gli ammortizzatori sociali e quindi chiediamo che almeno ci ridiano il nostro posto di lavoro. Vogliamo il lavoro, non vogliamo assistenzialismo, vogliamo il lavoro. Quando noi troviamo qualche lavoro al di fuori di Gela siamo costretti a peregrinare fuori, a lasciare la famiglia, i bambini e a lasciare tutto. Noi in questa città ci abbiamo creduto, abbiamo investito, abbiamo mutuo da pagare, abbiamo bambini che vanno a scuola e ci crediamo e vogliamo rimanere nella nostra città. Ho visto di giorno in giorno che stiamo andando sempre indietro, di tutto, senza lavoro. È una giperazione questa. Una forma di protesta pacifica, quella scelta dalle donne, ma che potrebbe sfociare nei prossimi giorni in qualcosa di più concreto. Per dire basta ai silenzi di chi ci rappresenta e sta assistendo alla morte di un'intera città. Quella di ieri sera è stata una fiaccolata del silenzio contro il silenzio. Una città dove i negozi chiudono, una città semivuota, una città ostaggio della criminalità, perché ogni sera bruciano i ragazzi senza lavoro, senza futuro. Siamo disperati. Al sindaco chiediamo di venirci incontro, di aiutarci. Non vogliamo assistenzialismo, ma però vogliamo delle risposte. Vogliamo i fatti, vogliamo il lavoro. Il lavoro è dignità. Chiediamo solo questo, il lavoro. Simone Siciliano, ieri sera in Piazza Umberto I, fiaccolata pacifica da parte delle mogli degli operai che hanno perduto il posto di lavoro, ci riferiamo agli operai dell'indotto, chiedono fatti concreti all'amministrazione comunale, non alla solità, solidarietà. Come risponde l'amministrazione comunale? Rispondiamo con delle azioni concrete, così come i fatti concreti che chiedono le donne, ma come tutta la città gelese, a gran voce. Il 2017 sarà un anno in cui diversi candieri verranno avviati in città, grazie ai fondi del Patto per il Sud. Ricordo che ci sono 30 progetti che sono stati avviati alla regione per portarli in gara. Ci sono poi i candieri che riguardano le royalties, sono altri progetti di urbanizzazione della città, quindi tutto il settore che riguarda la riqualificazione cittadina, soprattutto di aree periferiche, come ad esempio la parte nord del museo, piuttosto che alla fine di via Reganati, verranno interessate da cantieri reali. Dall'altro ci sono i fondi dell'agenda urbana, siamo stati selezionati assieme a Comune di Vittoria per un totale di 40 milioni di euro, per progetti che hanno ricaduto a carattere prevalentemente sociale, quindi per il combarto anziano, per le categorie più svantaggiate, per un miglioramento della pubblica amministrazione, quindi dei servizi che la pubblica amministrazione può dare alla città, e per tutto quello che riguarda il ripristino di aree con gravi problemi sismici. Dall'altro ci sono delle iniziative più incisive che riguardano il popolo direttamente. Uno di questi è stato avviato a fine gennaio, è un bando per le start-up, chiamato Job Start-up, che sta riscudendo un notevole successo. Molti ragazzi, molti giovani talenti si sono avvicinati all'amministrazione, giovani talenti che rappresentano il tessuto, la futura classe imprenditoriale, che riceveranno un incendio per le idee che porteranno da qui a maggio, idee che potranno diventare nuove attività imprenditoriali. La sostanza lei dice che il 2017, l'anno che è appena cominciato, sarà importante proprio a livello occupazionale. Partiranno realmente i cantieri? È un anno di raccolta dei risultati coltivati nel 2016. Si vedranno avviare finalmente il cantiere della Green Refinery, che è quello che dovrebbe tamponare la maggior parte della crisi dovuta alle difficoltà dell'indotto storico. E a questo si concateneranno tutta una serie di iniziative, come vi ho già elencato, di riqualificazione urbana e di aiuti diretti per i comparti più in difficoltà, quale ad esempio il settore agricolo, soprattutto per quello che riguarda anche lì la giovane venditoria, la sperimentazione di nuove culture, soprattutto con carattere industriale. Però finora, siamo in Siciliano, abbiamo ascoltato fiumi di parole, fatti concreti al momento attuale, però non ce ne sono. Questi sono fatti concreti, perché Job Startup è un fatto concreto, sono dei fondi pubblici dell'amministrazione che sta investendo sulla giovane venditoria. A fine mese partirà un altro bando che dovrebbe aiutare il comparto edile, incentivando i cantiere dell'edilizia privata. Gli aiuti del governo rivolti solo a Taranto, mentre Gela rimane una città dimenticata, tutta colpa della classe politica che ci rappresenta. Lo dice in una nota il leader di un'altra Gela, Lucio Greco, in merito alla crisi economica e sociale che sta attraversando la città, acquita dalla chiusura della raffineria. La carenza di una classe politica qualificata e capace di interpretare le istanze fondamentali della comunità, scrive Greco, soprattutto nella situazione complessa creatasi con la chiusura dello stabilimento, limitano la forza di contrattazione tanto nei confronti dell'industria quanto nei rapporti con le istituzioni pubbliche nazionali. Così, mentre per Taranto, città simbolo a Sima Gela del degrado economico, sociale ed ambientale causato dall'insedimento di importanti industrie, proprio a Natale, il 24 dicembre scorso, è stato varato dal governo Gentiloni un decreto legge con cui vengono stanziati 108 milioni di euro di risorse destinate alla città pugliese e sulla sua sanità, in particolare oltre a 30 milioni per le famiglie disagiate. Per Gela, invece, niente di niente, neanche l'ombra di una semplice attenzione. Ma c'è da meravigliarsi per questo diverso trattamento, si domanda Greco? Assolutamente no. E diciamo finalmente la maravidità. Noi gelesi dobbiamo prendere atto della delegittimazione di chi dovrebbe rappresentarci sia a livello locale che regionale ed abbandonare quindi il campo da ogni possibile ottimismo. Quale credibilità e quale forza contrattuale possono avere, infatti, un sindaco ed un governatore dai quali prendono le distanze persino gli stessi partiti di appartenenza? Quale credibilità può avere un sindaco che, espulso dal Movimento 5 Stelle, sia inventato, pur di galleggiare, un movimento locale privo di qualsiasi identità? Quale credibilità può avere un governatore che annuncia urbi e torbi risultati economici ed occupazionali entusiasmanti per essere smentito, subito dopo, dai suoi stessi uffici che parlano invece di una situazione economica ed occupazionale disarmante e seriamente preoccupante, se non addirittura drammatica, per la nostra regione? Dispensare ottimismo, così come fanno Messinesi e Crocetta, e ricorrere a dati falsi, chiude Greco, può funzionare solo per qualche giorno, ma poi, alla lunga, si procura solo discredito. Al punto in cui siamo arrivati, ci vuole una vera e propria inversione di rotta. Una tela settecentesca con cornice quadribolata, raffigurante l'agostiniano, terra novese, beato Giovanni Guccio. Una tela settecentesca raffigurante Sant'Agostino. Una tela, datata del 1627, raffigurante il ritorno d'Egitto. Ed ancora libri antichi e argenti, beni di inestimabile valore, che erano custoditi nella chiesa Sant'Agostino, in piazza Salandra, a Gela. Erano infatti custoditi. Adesso non ci sono più, da quando i franti hanno lasciato la struttura. Che fine hanno fatto? L'interrogativo se lo pone lo storico Nuccio Mule, che già il 17 ottobre scorso inviò al soprintendente beni culturali di Caltanissetta e per conoscenza anche al vescovo della diocesi di piazza Almerina, una lettera con cui si chiedeva di sapere se i padri agostiniani di Gela, dopo aver lasciato definitivamente la chiesa e il convento, avessero chiesto l'autorizzazione a trasferire la serie di beni culturali assieme ad altro materiale di valore di varie epoche, il tutto già ampiamente storicizzato. Domanda che al momento attuale non ha mai avuto alcuna risposta. Questi beni così importanti dove sono finiti? Se li sono portati gli agostiniani e ci hanno graziosamente lasciato i beni culturali che erano dentro la chiesa. Non riesco a capire come mai se questi reperti, questi beni culturali che erano nel convento se li sono portati via, che erano, loro dicono, di proprietà esclusiva, mentre quelli della chiesa li hanno lasciati. Allora dovevano anche portarsi quelli della chiesa. Siccome il sottoscritto è convinto che il bene culturale che era nel convento, i beni culturali che erano nel convento, così come quelli della chiesa, sono di proprietà della città e non degli agostiniani, anche perché sono stati storicizzati. Per esempio la tela del 1627 è lì da circa quattro secoli. Quindi non vedo perché loro si siano portati via tutta questa enorme quantità di materiale che non si riesce a capire quanti e quali. Ricordo che alle quattro di mattina hanno fatto un cambio e si sono portati via per evitare eventuali proteste di parrocchiani e anche quella mia. Io per evitare di imbattare contro le istituzioni, contro gli stessi agostiniani, mi sono rivolto alla soprintendenza per capire se era legittimo questo trasferimento e in base a che cosa l'abbiamo fatto. Non ho avuto nessuna risposta, nemmeno una risposta di cortesia. Io già mi sto attivando per fare un esposto alle competenti autorità, perché non deve andare in porto questa cosa. Immaginate se domani se ne vanno via gli altri ordini religiosi. Le chieste rimangono senza beni culturali, è una cosa assurda. Si configura un reato, appropriazione in debita. Saranno le competenti autorità a decidere quello che è accaduto, se poteva accadere. È stato approvato dalla Commissione Generale un regolamento per l'affidamento degli incarichi legali. Il regolamento pone Gela al primo posto in Sicilia e forse in Italia. Il Comune infatti è il primo che si adegua alla normativa prevista dalla norma 50-2016 inserita nel nuovo codice degli appalti. Si tratta di una novità assoluta perché prevede l'istituzione di un albo da parte del Comune suddiviso in cinque fasce, civile, penale, amministrativo, lavoro e tributario. Gli incarichi verranno assegnati a rotazione sempre nell'ambito delle fasce che vengono costituite e in ogni caso non vi sarà nessuna disparità di trattamento nei compensi. Spazio anche ai dottori in legge, a coloro cioè che non sono abilitati e che siano iscritti da almeno due anni nell'albo dei patrocinatori legali. Si è arrivati oggi ad un regolamento sui incarichi legali condiviso ampiamente. I principi fondamentali di questo regolamento sono ad oggi la condivisione, la trasparenza e soprattutto anche l'apertura ai patrocinatori. L'obiettivo senz'altro rimane sempre quello da una parte di creare elementi e condizioni di trasparenza ma nello stesso tempo di risparmio economico per cui ecco perché in via sperimentale siamo convinti in una fase iniziale, ecco il concetto di sperimentare, di raggiungerlo questo obiettivo. Speriamo di raggiungerlo ecco, riteniamo di sì laddove non fosse possibile verifichiamo sempre insieme al Consiglio Comunale di trovare anche altri elementi, vediamo. Il regolamento è stato condiviso dalla Commissione Generale con l'Amministrazione Comunale e con l'Ordine degli Avvocati. La Commissione è preseduta da Giuseppe Guastella, Vicepresidente Giovanni Panebianco, componenti sono Carmelo Casano, Sara Cavallo e Francesca Caruso. L'ultima parola aspetterà comunque all'assise civica. I nostri giovani colleghi avranno l'opportunità di avere incarichi legali. Nel regolamento è previsto un aumento dei compensi secondo i medi delle tariffe forensi, mentre prima era calcolato ai minimi. C'è l'assicurazione che tutti avranno non solo parità di trattamento nella distribuzione degli incarichi, ma anche nel valore. Quindi significa che tutti avranno medesimi compensi senza nessuna discrezionalità da parte di chi che sia. E l'assicurazione che verranno tutelati tutti i professionisti gelesi, quindi gli incarichi verranno dati per la maggior parte ai professionisti gelesi, salvo poi dei casi in cui le materie o comunque la professionalità, stiamo parlando di professionalità universitaria, lo richiedono e solamente in quel caso si potrà ricorrere a professionisti di fuori. Quindi veramente una novità, frutto del lavoro non solo di questa commissione, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela e dell'amministrazione comunale che ha ben ricepito le nostre osservazioni. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Primo tavolo tecnico di lavoro per seguire da vicino i progetti inseriti nel patto per il sud, per Gela, le compensazioni Eni e quelle minerarie. Riunione tra il sindaco Domenico Messinese, il suo vice con delega all'industria Simone Siciliano, il presidente del consiglio comunale Alessandrasia ed i capigruppo consigliari. L'obiettivo è quello di fare il punto sui progetti canterabili, i soldi previsti e la relativa ricaduta occupazionale, predisponendo una piattaforma concertata con le parti economiche della città. Il sindaco e l'assessore siciliano hanno illustrato lo stato di ogni investimento. Fino ad oggi sono stati impegnati circa 13 milioni di euro per il ripristino funzionale del porto, la realizzazione del museo che ospiterà la nave greca e la ristrutturazione dell'ex casalbergo di Macchitella. Altre idee sono quelle di realizzare un ostello della gioventù per riqualificare l'orto Fontanelle, ripristinare l'ex dogana per creare un infopoint museale, ripristinare la palestra dei Salesiani, creare un parco tecnologico per la gestione dell'illuminazione pubblica. Il secondo lotto per completare il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia sarà finanziato invece con altri fondi. Il presidente della Sisa Civica Asia ha chiesto chiarimenti sui fondi destinati alla formazione, mentre i consiglieri comunali Enzo Cascino ed Enzo Giudice hanno puntato l'accento sull'uso delle acque reflu e depurate del ragoleto per l'agricoltura. Messinesi ha spiegato che l'idea è quella di non far pagare oneri il primo anno agli agricoltori, compensandoli con l'entrata Eni. Per Cascino il problema è dei cinque invasi non messi in sicurezza ma interrati. Il consigliere Sara Bonura ha chiesto se il comune può anche intervenire sul rifacimento della pavimentazione della chiesa dei Salesiani, ma sugli edifici di culto il comune non può entrare nel merito. Il patto per il sud, ha detto il sindaco, è vincolato a progetti cantierabili. C'è una lista alla regione, tutti i progetti esecutivi sono già inseriti. Il consigliere comunale, Luigi Di Dio, ha aperto al confronto. Noi non vogliamo essere d'intralcio ma d'aiuto, però sul protocollo si è molto in ritardo. L'assessore siciliano ha voluto aprire al dialogo costruttivo. Mi scuso formalmente se abbiamo dato l'impressione di volere lavorare da soli, ha detto, ma non c'era alcuna intenzione di farlo. Siamo qui ad accogliere proposte e vostre idee. Alessandra ci ha commentato positivamente questo primo confronto. Condividere dei percorsi con il consiglio comunale è importante, ha riferito. L'obiettivo è sempre il bene comune, considerato che siamo davanti ad uno scenario di cambiamento. Il tavolo permanente consentirà di seguire tutti i leader passo dopo passo. La Spina, voi stavate effettuando un sopralluogo in realtà orientato a che cosa? Sì, facevamo un sopralluogo alla ricerca di bunker della Seconda Guerra Mondiale quando ci siamo ritrovati davanti a una cosa molto particolare, questa pietra forata che poteva dire tanto e così appunto ci siamo soffermati un po' nel analizzare queste immagini e a scattare delle foto. Anche soltanto il dubbio inizialmente che potesse essere quello che insomma si sta cercando di verificare sia, che emozioni vi ha fatto vivere? Beh, molto particolari. Innanzitutto ho contattato degli esperti del settore i quali mi hanno consigliato di ritornare sul luogo nel sostizio d'inverno e prendere le particolari misurazioni. Abbiamo visto il sole sbucare appunto da questa pietra forata, l'emozione è stata tanta. È chiaro che siamo solo all'inizio di un percorso, c'è molto studio da fare, molto conferme da avere e io chiedo appunto l'aiuto degli esperti di Arche Astronomia. Ad ogni modo si sarà fatta comunque proporzione della città perché comunque si tratta di un'opera realizzata dall'uomo moltissimo tempo fa. Sì, con molta probabilità e tra l'altro l'area è ricca densamente popolata di evidenze archeologiche che ci sono numerose tombe, ceramiche e via dicendo, che fanno ipotizzare che appunto l'area fosse altamente antropizzata quindi ci fosse la presenza dell'uomo. L'archeologia si muove nell'ambito delle ipotesi. In questo momento, allo stato dei fatti, quali sono le vostre ipotesi e in che periodo possiamo collocare quest'opera? Allora, io parlo da astrofisico più che da archeologo però di oggi è stato un primo sopralluogo che è evidenziato come questo monumento, io lo chiamo al momento naturale, abbia un orientamento ben definito che è quello appunto dell'alba al sostizio d'inverno. Tuttavia, adesso c'è una seconda fase che si apre che è quella della ricerca di dati etno-antropologici ma anche geologici ed archeologici quindi al momento è difficile datare quest'opera, chiamiamola così. Possiamo dare qualche informazione sulle tombe perché comunque credo che sia una bella scoperta ecco, di questo Giuseppe deve andarne davvero fiero col suo gruppo e lo ringrazio anche per avermi invitato. Però non possiamo al momento dare informazioni sulla data della pietra afforata dato che dobbiamo ancora studiare in dettaglio, ecco, le sue caratteristiche. Qual è il collegamento tra le opere dell'uomo e l'astrologia? Beh, diciamo che l'uomo fin dall'antichità è stato colpito da subito per così dire alle meraviglie del cielo basti pensare che in tutte le civiltà antiche abbiamo delle corrispondenze astrali queste corrispondenze le ritroviamo sia in monumenti che in antichi manufatti. In Sicilia soltanto da qualche anno si studia l'archeoastronomia in generale l'astronomia culturale e quindi credo che nei prossimi anni avremo davvero tante belle scoperte da divulgare e da condividere con il pubblico. Che cosa è una pietra a calendario e quali sono le caratteristiche che emergono immediatamente ad un primo sopralluogo? Si tratta di una lastra di pietra prettamente arenaria, quasi sempre fisce nomitico dove c'è fatto un foro e questo foro è orientato astrologicamente con un'alba o estate o inverno. La cosa importante è che coincida l'azmut con l'altezza perché mentre il mare è l'orizzonte zero quindi è piatto qua per far coincidere, quindi coincide sempre qua per far coincidere l'altezza con l'azmut in base all'altezza geografica devono stabilire un punto preciso dove si incrocia e questo è uno dei primi punti fondamentali per stabilire se si tratta o meno di una pietra orientata astronomicamente. E se non fosse invece questo tipo di opera che cosa potrebbe essere? Potrebbe ad esempio essere una corrosione degli agenti atmosferici? Può anche darsi però se non ci sarebbe questa corrispondenza già altezza e azmut, o c'è l'altezza o c'è l'azmut e qua c'è un incrocio perfettamente a 120 gradi in azmut con l'altezza geografica, l'orizzonte geografico. Quindi lei escluderebbe un'opera della natura, agenti atmosferici? Intanto possiamo dire benissimo che tutta l'area è antropizzata perché ci sono le tomba grotticella, ci sono i materiali castelluciani, quindi del periodo. L'unica cosa che ancora dobbiamo stabilire è l'antropizzazione del monumento. In questa fase non l'abbiamo visto, anche perché c'è molta erosione, però ora riguardando un po' le foto abbiamo visto che il fiscio erumitico, questo affioramento che è i strati verticali davanti al foro presenta un taglio orizzontale che non può essere naturale. Quindi questa è una prima ipotesi che ci fa pensare che sia stato fatto dall'uomo. Però vogliamo principalmente una consulenza geologica che ci dica che quel taglio orizzontale è stato fatto dall'uomo e non può essere dalla natura. Questa conferenza stampa è stata indetta proprio per comunicare alla nostra collettività l'inizio di uno studio che è quello che è stato rilevato nel nostro territorio un orificio, un buco, un orifizio che è orientato verso l'est, quindi ben preciso, dove sotto questo orifizio c'è un blocco che probabilmente sia un menire. Ora, dire determinati discorsi che si sono fatti in città in questi giorni mi sembrano un po' esagerati, però sicuramente è un inizio di un procedimento che è volto alla promozione di questo territorio. Ora, fra qualche, per un lasso di tempo di studio che noi faremo, che faranno, perché noi siamo il museo solo volto alla promozione, questo lo ribadisco, si arriveranno a delle conclusioni. possiamo, come dire, avere delle certezze sia in positivo come in negativo.